Questa mattina la Camera di Commercio ha un incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro promosso dalla Camera di Commercio, l'Inail, l'ACEN e il Consorzio Promos Recerche. Secondo quanto è emerso in campagna ci sarebbe un trend positivo, diminuiscono le morti, quindi gli incidenti sul lavoro. Il servizio di Barbara Mostelli. Un incontro per illustrare i finanziamenti alle imprese e le agevolazioni per le aziende che sostengono la sicurezza sul posto di lavoro si è svolto questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Napoli. Non presentiamo solo gli incentivi alle imprese meritevoli ma presentiamo anche il cosiddetto bando ISI, un bando nazionale attraverso il quale in campagna verranno stanziati circa 18 milioni di euro a quelle imprese che presenteranno dei progetti o per gli investimenti in sicurezza oppure per la riorganizzazione all'interno delle aziende attraverso dei sistemi di qualità e di monitoraggio dei sistemi di sicurezza. Gli aziende campane mettono a segno un risultato positivo, il trend di incidenti sul posto di lavoro è in diminuzione. Gli infortuni in campagna come del resto in Italia sono in netta diminuzione. Noi registriamo nel 2010 una diminuzione all'incirca del 7% degli infortuni, altrettanto anche per gli infortuni mortali. Quello che sicuramente, diciamo che il dato è confortante perché soprattutto è un dato nazionale, quindi diciamo riprende il trend nazionale. Sicuramente ci stanno ancora delle attività da fare all'interno del territorio perché poi se consideriamo quelle che sono le condizioni economiche anche il dato è significativo ma sicuramente non confortante. Noi stiamo facendo tutto ciò che è possibile, i primi risultati, i primi riscontri li stiamo avendo. Certo c'è ancora molto da fare, molto da fare specialmente nelle imprese non strutturate, nelle imprese che diciamo stanno un po' ai margini della legalità, le imprese che utilizzano il lavoro nero. Questa è la vera guerra da combattere perché le imprese dell'associazione di cui io faccio parte sono imprese strutturate che ormai diciamo sulla sicurezza è entrata nel loro pensiero. L'incontro è stato promosso dall'Inail Campania in collaborazione con il consorzio Promos Ricerche, la Camera di Commercio e l'ACEN.